Sono tutti qui a parlare dell'Abruzzo, degli equilibri, del campo largo, del centro-destra, di tutte queste belle cose, e poi secondo me ci siamo un po' persi di vista la notizia del principale degli ultimi giorni, che è quella che riguarda il Papa e la guerra in Ucraina. Mi stupisce sinceramente come tutti facciano gara, a partire dalle gerarchie della Santa Sede, a togliere valore a quello che ha detto Papa Francesco sulla trattativa. A me sembra assurdo che nemmeno al Papa sia concesso dire che bisogna trattare, che bisogna farla finita con questa guerra. Si fa polemica su quello che ha detto Orban a proposito di Trump, che se dovesse vincere lui finiranno i rifornimenti all'Ucraina, e quindi tutto diventa sempre una questione etica, con chi stai, se stai con il cattivo Putin, se stai con i buoni ucraini, diventa sempre una questione di moralità. Chi la pensa diversamente è immorale, impresentabile, cattivo, fascista, nazista, comunista. Siamo sempre appesi a questi distingui abbastanza pelosi. E cosa succede? Succede che persino chi cerca di mettere e utilizzare l'umana ragione, perché il Papa questo fa, cerca di utilizzare la ragione. Non è che ha detto qualcosa dal soglio pontificio che vada a incidere sulla dottrina cattolica. Ha parlato di pace, è un leader religioso, mi sembra normale che lo faccia, e invece no, nemmeno lui. Bisogna andare lì e guardare, precisare, depotenziare. E il risultato è che sono già passati due anni, non c'è uno spiraglio che sia uno. Continuiamo a sentire gente che dal comodo salotto di casa sua continua a invitare ai bombardamenti, alla continuazione della guerra. Sentiamo gente da una parte e dall'altra che fa delle sparate da Terza Guerra Mondiale senza rendersi conto della portata delle sue parole. E alla fine della fiera c'è un grande morto sul campo, appunto la ragione umana, il senso della verità, il senso del limite, la ragione. Prima di tutto non quella illuministica che viene venerata solo quando c'è da tifare la scienza, ma quella che dovremmo avere tutti e che ci dovrebbe permettere di fare un esame critico della situazione e comprendere quello che ormai è da tempo sotto gli occhi di tutti, cioè che da quel pantano, da quell'orrore, da quella macchina di morte che continua a funzionare, si può uscire solo in un modo, cioè con la trattativa, ma se nemmeno al Papa è concesso dirlo, beh, allora siamo veramente messi in mano.